calico parte 2 blacksmithly e popcorn e di là si va per le vecchie miniere che se non sbaglio erano qualcosa come 500 miniere d'argento dicevano che prima l'argento andava a 1 e 31 all'oncia si penso all'oncia poi è crollato a 0,63 e quindi non valeva più la pena e nessuno si è più sbattuto e la città è morta però ovviamente si può vedere che è stata restaurata quindi sono tante cartelli e i cartelli è tutta roba nuova ovviamente però le costruzioni e le basi è tutto vecchio tutto originale c'è un carretto davvero 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 carina sullo sfondo il deserto del mojave che ieri mi ha ucciso e ustionato nella maniera più bastarda possibile nonostante la protezione cinghiale che ho messo ripetutamente ma così è la vita guardate che bella va bene Grazie a tutti